Cos'è l'economia? Vi sfido a darvi una definizione di economia. Ero curioso ieri e sono andato a cercare su Wikipedia la definizione di economia. Adesso ve la leggo perché non me la ricordo per molto. Per economia si intende sia l'organizzazione dell'utilizzo di risorse scarse, limitate o finite significa scarse, al fine di soddisfare al meglio bisogni individuali o collettivi. E si intende anche per economia un sistema di interazioni che garantisce un tale tipo di organizzazione. Questo sistema è detto sistema economico. O un ragazzo che vuole interessarsi all'economia e trova su Wikipedia scritto questo lavoro qua, indecente, perché non si capisce niente di quello che c'è scritto, comunque si capisce ma voglio dire non è quella l'economia. E poi va a scuola e a scuola all'ora di economia gli insegnano l'economia aziendale, in particolare il bilancio dell'economia aziendale, che è una nicchia all'interno dell'economia aziendale e è una rottura di palle allucinante. Perché stai tutti a vedere i numerini, il conto economico, lo stato patrimoniale, la parte più noiosa e brutta dell'economia. E in questo cosa gli insegnano? Gli insegnano nelle ore di marketing, che dovrebbero essere le più divertenti delle ore di lezione del ragazzo, gli insegnano un marketing antiquato, che non funziona, dove parlano ancora di prezzo, prodotto, markup, eccetera, eccetera, che basterebbe dirgli a un ragazzo, se compri una cosa che costa 5 euro e la rivendi a 7 euro, guadagni 2 euro, capito? Questo è il markup di prezzo, capito? Che vanno a ragionare molto spesso nelle ore di marketing. Ora io mi chiedo, come fa un ragazzo? Io ho fatto addirittura l'università di economia e dico senza paura che mi è servita a poco e niente. Come può un ragazzo interessarsi all'economia se gli viene spiegata la parte più noiosa e brutta dell'economia e nella parte che dovrebbe essere più interessante gli vengono spiegate delle robe vecchie che non funzionano. Anche la comunicazione che viene spiegata, gli viene scritto che il marketing è fatto con le pubblicità in televisione, che il marketing funziona con le pubblicità sui giornali. Adesso ci sono entrati che il marketing funziona nei social media, lo dicono agli ultimi studenti che funzionano nei social media, come se avessero iniziato a funzionare da ieri, capito? Che ormai i social media, sì, lo sanno anche i sassi che i social media servono per fare marketing e che ormai anche quel mercato del marketing è abbastanza saturo perché anche i social media stanno battendo troppo forte sulle pubblicità e iniziamo a non considerare più neanche le pubblicità sui social. Quindi, proprio immagino un ragazzo che vuole intraprendere o comunque vuole studiare l'economia e si trova davanti a questo. Per forza la molla, per forza non impara l'economia e per forza non impara gli elementi essenziali, le parti chiave dell'economia. Ad esempio, l'importanza, come ho già spiegato in un altro video, di staccare il proprio reddito dal lavoro. Questa è una parte da finanzi personali che dovrebbe essere insegnata a chiunque. E poi, ancora un'altra parentesi, di economia non esiste solo l'economia aziendale. Esiste sì l'economia aziendale, esiste il marketing, il riero, però poi e dopo esiste la finanza, esiste l'economia politica, il trading online che comunque è una parte dell'economia, un ramo della finanza. E ne esistono a pacchi di economie. Quindi vi mettermo in un ragazzo, quindi una ragazza che vuole interessarsi all'economia, vuole studiare l'economia e gli unici strumenti che ha è questa scuola che gli insegna la parte più noiosa e inutile dell'economia che non riuscirà neanche mai a mettere in pratica. Trascurando gli aspetti chiave, come l'importanza di staccare il proprio reddito dal proprio tempo, trascurando gli aspetti del marketing più rilevanti, quali il passaparole, quello è il vero marketing che funziona, non tanto perché ormai ci si fida di quello che ci viene detto da amici e conoscenti. Trascurando tutti gli aspetti divertenti e interessanti dell'economia, ad esempio come viene costruita un'azienda, come questa azienda può crescere nel tempo, il fatto che l'economia è fatta di scelte, è fatta di persone, è fatta di relazioni, non solo di numerini, conto economico e stato patrimoniale, tutte parti che non vengono considerate. Ora, voglio dare una definizione di economia. L'economia è tutto quello che avete intorno. Adesso, blocca un attimo il video e prova a vedere. Tira sulla testa e guarda cosa hai intorno a te, la prima cosa che vedi. Immagino che tu possa vedere fuori dalla tua finestra e vedi un albero. Anche dietro quell'albero c'è un'economia, perché il comune della tua città pagherà dei giardinieri per portare quell'albero ogni tanto e qualcuno avrà venduto probabilmente i semi per far crescere quell'albero. Solo dietro quell'albero c'è economia. Un'altra cosa è un cartello stradale. Tutta l'economia e le persone che lavorano per quel cartello stradale. Pensateci, c'è quello che fa il metallo per costruire il cartello stradale, quello che lo raccoglie quel metallo, quello che fa la vernice bianca per dipingere il cartello stradale e quello che fa la vernice rosso per dipingere il cartello stradale. Magari lo stesso che fa la vernice e li vedi insieme. Quello che poi va a dipingere il cartello stradale. Quella dieta che mette insieme tutto e costruisce il cartello stradale. Comunque, questo è tutto economia. Solo dietro il cellulare che ti metti in mano c'è una quantità di economia incredibile. Pensare che tutto quello che ci circonda è economia. E dietro qualunque cosa che ci circonda ci sono i soldi. Altro argomento abbastanza tabù nelle scuole e nell'istruzione. Che non viene il problema perché l'economia è fatta di soldi. Di soldi, ovvero io ho 200, 1000, 2000, 3000 euro. Devo investirli, devo metterli qua, devo metterli là. Come faccio a guadagnarne di più? Come evitare di perderne? Tutte cose che non vengono spiegate, non vengono insegnate. Elementi che invece sono fondamentali e che effettivamente potrebbero portare gli studenti e i ragazzi a appassionarsi a questa materia. Che non è una cosa a cui si devono appassionare, ma una cosa che devono obbligatoriamente conoscere. Come devono saper leggere e scrivere. La nostra scuola è molto brava, ci segue a leggere e scrivere, ma si dimentica di insegnarci come vivere. Perché? Saper gestire il proprio denaro e conoscere l'economia, ovvero tutto quello che ci circonda, è di fondamentale importanza. Se veramente vuoi interessarti al mondo dell'economia, ti consiglio di guardare qualche canale YouTube di qualcuno bravo. Consiglio un paio di YouTuber, c'è WhatsApp Economy che è molto bravo, c'è Pietro Michelangeli che parla un po' più di finanza. E ce ne sono molti altri. Il mio canale, se ti interessa, ti iscrivi, che parlo di economia e di finanza. Come libri invece puoi leggerti qualche libro, a tua discrezione ce ne sono tanti, i grandi libri dell'economia, i grandi libri del business, sono libri abbastanza generici, ma molto validi per interfacciarsi a questo mondo. Tutti elementi che hai per imparare l'economia, ma assolutamente non studiare solo a scuola. Studi a scuola per passare le verifiche, esci alla veloce dalla scuola, in modo tale di poter essere libero, poi di decidere e di studiare quello che vuoi. Quindi studiare in modo indipendente l'economia, perché purtroppo il nostro sistema scolastico non ci dà il metodo, non ci dà il modo per imparare l'economia.